ciao ragazzi bentornati a viva hits la rubrica dove vi faccio vedere e sentire musica davvero interessante viva hits venonda ogni primo sabato di ogni mese alle ore 21 qui sul mio canale allora ragazzi come va spero che vi stiano piacendo queste puntate di viva hits continueranno a esserci per tutto il 2023 spera e ogni ogni mese ho il diritto o l'impegno di portarvi nuove musiche interessanti oggi andiamo a parlare ancora delle spice girls però parliamo delle spice girls da sole da sole le spice hanno fatto anche la carriera solista ebbene oggi ho scelto tre componenti delle spice girls che hanno deciso di buttarsi nel campo della musica da solista e hanno avuto successo sto parlando di Emma Banton, Melanie B e il Mel C quindi ragazzi per i fan delle spice girls rimanete incollati a questa puntata perché saremo saremo inondati di musica molto interessante la prima artista spice che vi voglio parlare un attimo è baby spice ovvero Emma Banton Emma Banton che ha fatto il suo primo singolo d'esordio what took you so long molto molto bello molto colorato poi lei è una bambina quindi come come si fa a non amare questa artista ma andiamolo subito a vedere what took you so long di Emma Banton Grazie a tutti 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 Grazie a tutti